E' una bella trasmissione che facciamo i giovani, c'è la musica e la canzone che ti fanno divertire e ci stanno tanti artisti che sui mestri ho cantato, De Simone, Mosch, Nast, tutti artisti di qualità ci stanno i nodi di Napoli, Nutrigli e Sustanze, tenendo una voce bella e pure un poche panze un cocco bello, esposito, Rufino e Marilena e si vengono a scena quando si vengono cantati un'orchestra maestrale, e che vuol dire che fanno? Con farina e con fiscale, con lo strumento che vuol parlare C'è Tonino Tagliamonte che ha presentato la trasmissione, ha presentato Verbono, con passione e serietà vuol consigliere guardare